Ciao a tutti sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Eleonore Casalegno, tradisce, per amore, il nuovo amore è un dirigente sportivo. Secondo chi, è arrivata una svolta sentimentale importante, al cuore non si comanda e per amore si può più tradire. Come forse sta facendo Eleonore Casalegno che a 46 anni per la prima volta potrebbe rinnegare la sua storica fede pur di frequentare il nuovo compagno. Eleonore Casalegno, la conduttrice tv è una spiegatata tifosa interista da sempre, non ha mai negato la sua passione ed è spesso stata a San Siro per seguire da vicino la sua squadra del cuore. Però già in passato ha avuto un cedimento quando ha frequentato Ringo, che invece è milanista convinto oltre ad essere anche il padre della sua unica figlia, Suami. E adesso sembra esserci cascata di nuovo. Perché secondo il settimanale, chi, da un paio di mesi l'affascinante Eleonore starebbe uscendo con un dirigente sportivo che collabora con il Milan. Una relazione in grande segreto, nata in sordina e tenuta nascosta fino ad oggi anche se la rivista diretta da Alfonso Signorini non sembra aver dubbi sul fatto che i due si stiano frequentando. Al momento però non ci sono immagini insieme e quindi restiamo nel campo delle indiscrezioni. Eleonore Casalegno, tradisce, per amore, tutte le sue storie più famose. Quello con DJ Ringo, all'anagra però con Maurizio Anaclerio, è certamente stato uno dei grandi amori di Eleonore Casalegno. La relazione con il conduttore radiofonico e personaggio televisivo italiano è stata una delle più ammirate alla fine degli anni 90 e dalla loro unione, mai sfociata in matrimonio, è nata anche Suami. Un matrimonio però nella vita della Casalegno c'è anche stato. Quello nel 2014 con Sebastiano Lombardi, direttore allora come oggi di Rete 4. Una storia che è durata tre anni, fino a quando nel 2017 è stata lei stessa ad annunciare la fine con un post su Instagram. Poi Averissimo aveva raccontato che tra noi c'è stato un distacco, ognuno ha preso strade differenti. I nostri caratteri non si sono più incastrati, non camminavamo più parallelamente. Ma nella sua vita privata c'è stato per qualche mese Vittorio Sgarbi, quando era ancora molto giovane, e soprattutto Omar Pedrini, cantante ed ex leader dei Timoria, insieme a Francesco Renga, sono stati insieme sette anni. A distanza di tempo aveva anche svelato la sua passione per Daniele Bossari e ultimamente la sapevamo legata ad Andrea, un broker finanziario 44n. Ma secondo chi, non è più così, grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!